Buongiorno, io sono Matteo Bassetti, sono professore ordinario di malattie infettive per la sua Università di Genova e direttore delle malattie infettive al Policlinico San Martino. Cosa possiamo dire del connubio tra ricerca e clinica, tra ricerca e medicina? Direi che vanno a braccetto, non si può pensare di assistere i malati, assistere le persone che soffrono senza fare della ricerca. La ricerca è la base che ci pone sempre di fronte al malato, una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta, diceva Seneca oltre 2500 anni fa e credo che sia altrettanto vero oggi, perché la ricerca scientifica, che è la ricerca clinica, quindi la ricerca di trovare la migliore cura, il migliore test di laboratorio deve andare sempre sempre pari pari con quella che è l'assistenza ai nostri malati. Quindi benvenga che ci sia la ricerca e soprattutto benvenga che la ricerca continua ad essere finanziata e continua ad essere sostenuta anche nel nostro paese e anche nel nostro Policlinico. Grazie ai finanziamenti che potrebbero arrivare con il 5x1000 si potrebbero finanziare varie ricerche che in questo momento noi abbiamo in corso qua al Policlinico San Martino, non ultima, credo che tutti abbiate avuto modo di vedere come il Policlinico San Martino si è posto molto avanti nella lotta al Covid e abbiamo numerosissimi progetti di ricerca tra le varie specialità proprio del Policlinico, che coinvolgono ovviamente le malattie infettive, l'igiene, la cardiologia, la rianimazione e chiaramente ne abbiamo tantissimi e saremo molto lieti se il 5x1000 potesse arrivare al Policlinico e potessimo continuare a operare nell'ambito di questi progetti di ricerca che fondono medicina e ricerca scientifica. Vi chiedo di sostenere il 5x1000 per il Policlinico San Martino perché la ricerca non dimentichiamoci che ci aiuta a curarvi meglio.